Federico cerca di far dire papà alla piccola Vittoria in tutti i modi, ma lei insiste a dire mamma. Però poi si offende Federico ed ha ragione. Papà? Mamma, mamma. Beh, cosa? Papà? Mamma, mamma. Vittoria? Papà? Cosa? Ma, 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 ma. Ehi, porta la papà. Vittoria, veramente, eh. Porta la papà. Non la voglio più la palla. Mentre Vittoria gioca con il nonno e gli dice porta la palla a papà, lei si gira e dice mamma. Così non si fa Vittoria, anche se è un gioco, cerca di chiamare papà. Doi. Doi. Lo. Doi. Grazie a tutti.